Butta giù bastone, allontanati, girati allontanati. Oggi siamo a Biella per il primo incontro delle Mini Academy Pactesura. Allora, che cos'è Pactesura? È un grande progetto nato dalla comunità europea in collaborazione con la città di Torino e con Anci Piemonte per portare in tutte le località, in capologhi di provincia del Piemonte, un percorso di formazione per le polizie locali. Oggi la polizia locale ha un ruolo che è ben diverso da quello che aveva una volta, perché sono molto più coinvolti nella vita delle città sotto ogni punto di vista e occorre essere sempre più preparati a dare risposte alle nuove esigenze che sempre in misura maggiore si manifestano. È difficile arrivare dappertutto senza un'adeguata formazione. Grazie a Pactesura, grazie all'Europa, grazie alla regione Piemonte, che ha fatto in modo che arrivassero dei fondi europei importanti, oggi abbiamo la possibilità di creare un corso di formazione in tutti i coprovi di provincia per la nostra polizia locale. E questo è un fatto assolutamente positivo che consentirà di dare risposte migliori ai nostri cittadini. Questo appuntamento è stato fatto di comune accordo con la regione Piemonte, con l'assessore Fabrizio Ricca, l'assessore alla vigilanza urbana, a seguito, come dicevo, di questo progetto europeo che ha avuto la partecipazione di numerose città europee, fra cui Torino, Madrid, Nizza e quant'altro. Abbiamo pensato come Anci Piemonte, in collaborazione con la regione, di estendere una più breve esperienza di questo progetto rivolto a tutti i vigili, chiamiamoli così, delle città piemontesi, in modo che questa esperienza possa essere veramente utile a tutte le città e anche a volte ai piccoli comuni, quando ci sono manifestazioni che comportano un grande afflusso di persone e di visitatori.